Però è come si dice proprio nel momento di difficoltà che si vedono gli amici veri e ecco, i miei me lo hanno dimostrato, sono veramente circondata da persone vere, belle, a cui io non lo so, mi ero fatta un'idea che non c'era tutto questo rapporto, ma in realtà non è così. Quindi veramente grazie a voi per che mi avete fatto tornare il sorriso, soprattutto in questi ultimi due giorni. Perché ho sentito che al di fuori della mia famiglia c'è comunque qualcuno su cui posso contare, che qualcosa forse mi sono costruita o qualcosa trasmetto e dimostro anche alle persone che non sono della mia famiglia. È un discorso un po' complicato e lungo da spiegare, spero di averlo riassunto bene. Dunque basta momenti riflessivi o sdolcinati e torniamo alle cose un po' più futili, un po' più leggere. Mi sto preparando per andare a un compleanno, che lo fa di poveriggio la mia amica. Credo che riciclerò l'outfit che ho usato sabato per andare al centro commerciale, che l'avevo fatto a caso in tre secondi, ma era uscita proprio una cosa carina, semplice e carina. E dato che è di pomeriggio anche il trucco non lo vado a caricare, ma lo faccio super leggero. Tanti, fondotinta stra leggero che lascio ancora vedere qualche imperfezione, l'uscita l'altra e senza matita sotto gli occhi.